Allora, grazie Lorenzo, vi presento subito il nostro ospite, il professor Marcello Musto, è docente di teoria politica presso la York University di Toronto. Benvenuto a ReNews, professore. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, noi questa mattina abbiamo seguito l'insediamento all'Eliseo di François Hollande, un socialista che dopo 17 anni torna a guidare la Francia. Vediamo proprio le immagini della firma. Lei ha da poco fatto uscire il suo ultimo libro, che è una raccolta di saggi, il titolo è Ripensare Marx e i marxismi. Abbiamo esagerato nel giudicare la svolta francese, questa vittoria dei socialisti, se ci consente questa battuta, oppure è un bisogno di sinistra o comunque di ripensare le teorie liberiste che in Europa sta prendendo piede? Credo che sia l'inizio di una possibile svolta. Adesso è difficile collocare il pensiero di Marx nelle vicende politiche contemporanee. Di certo per Marx è una rivincita, è una sorta di rivincita oggi, perché è stato considerato come un autore da destinare all'oblio, dalla quasi unanimità dei autori, opinionisti, politici, dopo il 1989. Ed oggi Marx consuma una sorta di rivincita, perché torna ad essere citato, torna ad essere utilizzato nell'analisi del capitalismo e in alcune parti d'Europa. Penso alla Grecia, dove c'è un partito anticapitalista vicino alle teorie di Marx, a Siriza, che è il secondo, diviene il secondo partito, e torna dunque ad essere un nuovo autore attuale. Ecco, perché va studiato oggi? Perché va studiato in questo momento di passaggio, così diverso dal capitalismo che Marx aveva studiato? Noi qualche giorno fa abbiamo presentato il libro del professor Pianta, descriveva l'Italia divisa tra nove persone che si erano impoverite e la decima che invece si era arricchita e che aveva un reddito molto superiore rispetto alla somma dei redditi della parte più povera. E scrive proprio Pianta, non è l'Inghilterra di Dickens, e dunque non è l'Inghilterra di Marx e Engels, ma è l'Italia del 2012. E allora perché oggi tornare a prendere quei paradigmi, o immagino una parte di quei paradigmi? Ma io credo che oggi Marx, e possiamo guardare anche al modo in cui è riletto nel mondo, negli ultimi anni sono riprese appunto pubblicazioni, dopo il 2008 Marx è tornato sulle prime pagine dei principali quotidiani o settimanali internazionali, anche conservatori, credo che vada riletto innanzitutto per comprendere il capitalismo e per comprendere le trasformazioni che stanno intervenendo nell'economia ed anche nelle relazioni sociali, nelle cose che diceva, nelle cose che raccontiamo poi tutti i giorni. Comprendere il capitalismo vuol dire in questa fase innanzitutto comprendere la crisi. E Marx è un autore molto attrezzato, anche più attrezzato di molti contemporanei. Basta ricordare il fatto che Marx si prendeva a beffa degli economisti politici del tempo che spiegavano la crisi. Marx fu giornalista per il New York Tribune nel 1857, ai tempi della prima crisi finanziaria, e gli articoli che gli scrisse sono stati ripubblicati negli ultimi anni, come diceva anche da quotidiani conservatori, si pensa alla Frankfurter Allgemeine in Germania. Marx si prendeva a gioco di quanti spiegavano la crisi come una sorta di crisi del capitalismo dovuta alla speculazione oppure dovuta all'eccesso di avidità di profitti dei capitalisti. E Marx diceva che questi economisti assomigliano a quei filosofi della storia, oramai scomparsi, che spiegavano, che vedevano le ragioni della malattia nella febbre. Per Marx invece le crisi... Professore, quelle parole che lei ha utilizzato, le abbiamo sentite spesso nelle ultime settimane, una crisi dovuta all'eccesso di speculazione, una crisi dovuta all'avidità del sistema. E allora che crisi è quella di oggi? Ma per Marx le crisi del capitalismo sono un fenomeno ciclico e strutturale, non sono un incidente di percorso. Le crisi servono al capitalismo, poiché per Marx il capitalismo è un modo di produzione anarchico, è un modo di produzione irrazionale, servono perché attraverso questa distruzione, attraverso la disoccupazione, attraverso la precarietà, il capitale distruggendosi torna a creare le condizioni per poter accumulare il profitto e per poter guadagnare come in precedenza. In realtà Marx descrive il capitalismo in due modi. Da un lato dice che sviluppa le forze produttive più di ogni modo di produzione ad esso precedente, ma dall'altro Marx dice anche che queste forze produttive poi a un certo punto non possono più svilupparsi, perché le ricchezze vengono accaparrate da pochi e perché le merci vengono prodotte in base al profitto e non in base ai bisogni sociali. Dunque Marx oggi è molto attuale e Marx oggi serve per comprendere il capitalismo e per anche trasformare la società nella quale viviamo. Ecco professore, è uscito da poco un libro, il titolo è La lotta di classe dopo la lotta di classe, un libro intervista del professor Gallino. Una delle tesi che stanno alla base di questo libro, e che di fatto dà anche il titolo, è che non è vero che non c'è più la lotta di classe, ma che c'è, anzi, ma a parti rovesciate, cioè sono i più ricchi che fanno lotta di classe per recuperare il terreno perso dopo le conquiste della socialdemocrazia nel Novecento. Lei rispetto a questa lettura che opinione ha? Io sono assolutamente convinto di questa cosa, sono d'accordo con le cose che scrive Gallino e paradossalmente questa vicenda, e qui anche un'attualizzazione di Marx, ma anche rileggerlo e riutilizzarlo, riguarda poi il carattere, il rapporto tra la sfera politica e la sfera economica, ovvero oggi vengono richiesti degli interventi dallo Stato e dalla sfera politica, però questi interventi sono confinati o debbono essere confinati soltanto alle regole che l'economia detta e che paiono naturali ed immodificabili, ma che invece naturali ed immodificabili per Marx non sono. E dunque c'è una sorta di assenza di democrazia o di dramma della democrazia, perché le scelte economiche, gli indirizzi economici determinano i governi, si pensi al caso italiano e greco del governo tecnico, e non sono più i governi a determinare gli indirizzi economico e politici. E la sfera dell'economia, alla sfera nella quale poi oggi si prendono alcune scelte importantissime, non è più sotto il controllo democratico, perché appunto ci sono poi quella che è stata definita la troica e le decisioni vengono prese in questi posti. Ecco, professore, Gramsci sbarca negli Stati Uniti nel senso che viene eletto in America forse per la prima volta o con una maggiore attenzione rispetto ai decenni passati. Marx torna ad essere pubblicato, ad essere analizzato, lo fa lei, ma non solo. E in Italia cosa succede? A che livello è lo studio di questo settore della filosofia politica, della politica economica? Non so, mi aiuti anche lei a definirla. Beh, definire Marx è difficile, perché Marx non è solamente un filosofo, ma veramente un economista politico. Quello che ha detto lei è giustissimo. Nel mondo anglosassone, ma non soltanto, c'è una grandissima ripresa di questi autori. Gramsci oggi è l'autore italiano più tradotto nel mondo, ma poi non soltanto nel mondo anglosassone, si pensi all'America Latina, dove poi questi autori servono per ripensare la politica e ripensare, come tentavo di dire, l'alternativa al capitalismo. In Italia anche la situazione, pur nelle difficoltà del nostro paese, è il miglioramento, nel senso che le pubblicazioni, gli iscritti, i convegni, i corsi universitari su questi due autori sono stati pressoché sospesi nel quindicennio che ha seguito il crollo del muro di Berlino, e invece adesso tornano a fiorire di nuovo. Libri su Marx tornano in libreria, non soltanto il mio, ma molti altri, e questo autore torna ad essere considerato come un contemporaneo per una ragione precisa. Perché al tempo di Marx, quando scrive il manifesto del Partito Comunista nel 1848, il Capitale nel 1867, testi che tornano ad essere dei piccoli best-sellers oggi in libreria, soprattutto in Germania, ma non solo, Marx descrive il capitalismo in una realtà nella quale il capitalismo è però confinato all'Inghilterra e a pochi altri centri industriali in Europa e nel Nord America. Oggi invece il capitalismo si è esteso su scala planetaria, parliamo di globalizzazione, si pensi a quelle pagine meravigliose che Marx scrive nel manifesto del Partito Comunista, e questo capitalismo mondiale rende Marx oggi più attuale, rende le contraddizioni di questo modo di produzione ancora più stringenti. Professore, proprio per chiudere le chiedo un flash. Lei è docente alla York University di Toronto, in Canada. Si considera un cervello in fuga? Pensa che chi come lei ha intrapreso questo filone universitario e accademico ha speranze anche nel nostro paese? Ma purtroppo la situazione in Italia è drammatica in Italia, non soltanto in Italia. Leggevo oggi un articolo sulla Grecia. mi considero come una parte di questa generazione che per lavorare, per pensare, per pensare anche criticamente è stata costretta ad andare altrove. Però la storia non finisce qui e come lei diceva abbiamo cominciato con Hollande e con la sua elezione ed è possibile, è probabile, e Marx serve anche per questo, che una stagione di nuove lotte sociali riapra la situazione politica ed economico-sociale del nostro paese. Grazie al professor Marcello Musto, ricordo il suo ultimo volume, ripensare Marx e i marxisti, sono, i marxismi, sono le 12.51, noi ci fermiamo, la linea alla regia, le 13.00, prossima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.